Buon'idea, io gli ho fatto tante domande a loro e a loro noi dobbiamo nei loro confronti impegnarci affinché ricordino questo fatto molto grave. Auguro a tutti quanti poi di calpestare... Siamo con il sindaco Pietro Fontanini, oggi è una giornata importante per la città di Udine, finalmente anche qui arrivano le pietre d'inciampo. Sì, sono arrivate queste pietre d'inciampo per ricordare purtroppo dei fatti gravissimi accaduti durante la seconda guerra mondiale, siamo vicini alla giornata della memoria, Udine ha voluto ricordare con queste pietre d'inciampo, in pratica questi gravi fatti che hanno visto persone portate via nei campi di concentramento, la loro colpa era o di essere obrei o di essere componenti dei partigiani che lottavano per la liberazione del Friuli e della città di Udine. Eventi che sembrano siano molto partecipati, quindi la gente ci tiene. Sì, molto partecipati, veramente anche i ragazzini che hanno letto e hanno fatto queste riflessioni, ma soprattutto tante persone, significa che le cose sono ancora molto presenti nella memoria e questo è importante perché non dobbiamo dimenticare questi gravi fatti accaduti oramai più di 70 anni fa. Sì, molto partecipati, mi hanno gridato. Sì, molto partecipati, mi hanno chiamato, mi hanno chiamato, mi hanno chiamato, mi hanno chiamato. Sì, molto partecipati, mi hanno chiamato. Grazie a tutti.